Prima vittoria in campionato per lo United Carpi che regola la Virtus Mandrio con un netto 3-1 nonostante le difficoltà iniziali e lo svantaggio iniziale. Siamo qui con Bulgarelli, attaccante classe 99, che oggi è l'autentico protagonista della vittoria della squadra carpigiana. Ha siglato una tripletta e ha portato appunto lo United alla prima vittoria in campionato. Prodotto del vivaio dello United, ti chiedo come hai visto la partita, quali sono le tue emozioni a due minuti praticamente dalla fine della partita. Allora, la partita ci siamo iniziati subito piano, che poteva andare molto di più, però dopo i primi gol ci siamo sbloccati e abbiamo iniziato a giocare noi. Per i tre gol sono felice. Con i Ocic forma una coppia praticamente perfetta, i due si intendono molto bene, ti ha regalato due assist davvero molto belli. Ti chiedo, ora che vi siete sbloccati, sia tu che ovviamente la squadra, dove potete arrivare? Quali sono gli obiettivi per il proseguo della stagione? Allora, gli obiettivi per me e per tutta la squadra sono di arrivare il più in alto possibile e anche andare avanti nella coppa, che è molto importante anche quella. Quindi andare il più in alto possibile, giocare sempre al 100% e dare sempre tutto. Allora, siccome sei un prodotto del Vivalio, quindi presumo che la società punti molto su di te, sei già al quarto gol in campionato, ti chiedo, sbilanciati su un possibile 20 gol, diciamo? No, 20 gol no, dai. Io spero di arrivare almeno a doppia cifra, spero. Spero di arrivarci e darò sempre il massimo per arrivarci. Ok, grazie. Grazie.